... Bene, ci accomodiamo e io vorrei lasciarle subito la parola sul titolo che abbiamo scelto per questo appuntamento. L'idea era quella di realizzare un caffè filosofico, questi luoghi dove effettivamente si discute, ci si relaziona in comunità tra intellettuali e pubblico, quindi un approccio popolare alle questioni, ma la questione di tutte le questioni, quella fondamentale, quella che abbiamo deciso come titolo dell'appuntamento, è la cura di sé. Come curarsi di sé, come prendersi cura di sé. Il Rimini Wellness prova a spiegarlo attraverso i fenomeni che riguardano il corpo, il fisico, ma ci si prende cura di sé anche in un altro modo, ci si prende cura anche delle nostre relazioni. Come e dove si può fare questa terapia dell'anima oggi in questa società contemporanea, attraversata dalla frenesia piuttosto che dalle pause come quella rappresentata dal caffè? Grazie. Sente? Buonasera. Ma, boh, allora non credo che ci sia un posto, anzi sarei molto sorpreso a sapere che esista un posto, che qualcuno voglia segnalare un posto dove avere cura di sé. Sì, non so, dipende. Se uno me lo chiede, l'associazione è stare da soli su una spiaggia meravigliosa. Capisco che non è molto commerciale, non si vende niente, però credo che sia molto... La cura di sé fisica non porta ad una cura di sé mentale, non necessariamente. Se no, tutti gli atleti sarebbero persone risolte dal punto di vista psicologico, non è così. Quindi, se uno prende un calciatore, è la quintessenza della non soluzione psicologica. eppure c'è un fisico allenato. Ecco, se penso alla cura della mente, non penso a Ronaldo, con tutto rispetto, naturalmente. No, anche Totti, poverino, ha tentato di fare il filosofo con Vodafone. Life is now. Poi, secondo me, non gliel'hanno neanche tradotta. Non sapeva esattamente cosa stava dicendo, quindi... Perché se avesse capito cosa stava dicendo, stava bestemmiando, per esempio, no? A proposito di cura di sé, la cura di sé non è fare quello... No, fare qualche cosa oggi. E fare qualche cosa per il tuo futuro. Life is tomorrow, eventualmente. Però anche lì, se tu dici life is tomorrow, non vendi niente. Mentre life is now, vendi il telefonino. Però siccome io non sono un venditore di telefonini, non so cosa farci. La felicità... Io ho scritto un paio di libri sulla felicità, che sono uno... A vedere, a leggere i titoli, sarebbero un po' uno contro l'altro. Perché il primo di alcuni anni fa, che poi è stato molto apprezzato, per esempio, stranamente in Brasile, non so per quale motivo, perché siamo infelici. Perché in realtà io penso che noi siamo un popolo molto infelice. O meglio, un popolo che non sa cercare la felicità. E allora qualche anno dopo, un paio di anni fa, ho scritto una cosa, pensando ad una ragazza, ho scritto impara ad essere felice. che è una cosa che credo che alla mia età sia una sfida giusta. Perché mi sono chiesto se sono felice io, se un giovane mi chiedesse come si fa a cercare la felicità, se ho una risposta, eccetera, eccetera, eccetera. Devo rispondere a queste domande? Sì, se la risposta è, se la domanda è se sono felice, sì, in maniera intermittente, come giusto che sia, ho degli momenti di felicità e poi ho dei lunghissimi momenti di ricerca della felicità. Credo che in Brasile abbiano apprezzato il mio nome, perché io citavo una bellissima canzone di Jobin che diceva la tristezza non ti ho un fin felicità e sì la tristezza non ha fine e la felicità sì, per fortuna. Perché se fosse il contrario sarebbe un dramma, no? saremmo tutti dei beoti con il sorriso da un orecchio che all'altro e un po' come siamo diventati. Questa dimensione dell'imparare su cui insiste anche il titolo che forse dà la possibilità di un lavoro. la felicità non è che stai lì e viene giù come la mana dal cielo no la felicità è una ricerca è un lavoro è una fatica infatti c'era un grande editore scrittore straordinario che si chiamava Leo Longanesi che ha scritto anche degli aforismi simpatici che una volta scrisse vissero infelici perché costava di meno che è un colpo di genio perché se ci pensate bene la felicità è carissima pensa no cosa costa l'infelicità niente no ti metti sdraiato lì con la birrazza la canotta no e poi dici che è tutto colpo della Merkel che qua siamo fottuti e cosa costa niente una banalità gratuita pensa a dire no non me frega niente della Merkel la devo cercare io cosa faccio domani cosa sto pensando pensare è una roba di una fatica infatti abbiamo smesso di pensare proprio perché costa di meno abbiamo fatto tante cose come diceva Leo Longanei all'epoca non poteva neanche immaginarsi che quello sarebbe diventato non un oforimismo ma una sorta di profezia che si autoavvera purtroppo secondo me è così ripete spesso questa frase legata alla crisi cioè la crisi magari potrebbe anche farci bene noi quest'anno con PopSofia stiamo riflettendo su questo tema l'allegria del naufragio cioè all'interno di questa catastrofe economica e quindi di questa mancanza di mezzi di mezzi ipotetici per raggiungere la felicità forse ci sono delle speranze in più delle possibilità in più ma io penso che il naufragio sia una cosa meravigliosa cioè intanto cioè come la fuga dei cervelli se c'è la fuga dei cervelli vuol dire che ci sono dei cervelli è una buonissima notizia se hai fatto un naufragio vuol dire che sei stato navigante certo che se stai chiuso in cantina non naufraghi no? quindi viva e i naufraghi sono persone straordinarie no no sto scherzando io sono molto più interessato a questi ragazzi e donne che vengono da questi paesi tribolati rispetto a quando incontro questi liceali fighetti perennemente stanchi con la palpebra abbassata annoiati di tutto no? che hanno dei genitori bancomat non ho alcun interesse per questa gioventù qua mi sembra inutile vorrei che migrasse quella ecco vorrei che fuggisse quella il problema è che invece questi rimangono capito vanno via quelli che hanno la testa la fuga è una è una selezione darwiniana proprio anche in natura qual è la no del gregge no di antilopi chi è che è chi è che rimane nelle fauci del leone quella è più sfigata il maschio gagliardo è vivace è attento è preveggente è sensibile che fiuta l'aria no? cinque minuti prima dell'acqua si salva quindi riflettete perché tra un po' io ho un'età per cui me ne foto ma sarete circondati da una mediocrità assoluta che è tutta la gente che si sedimenta in questo paese e poi non si sa cosa farà cosa farà boh mi spiego quindi ecco lì non c'è felicità non c'è ricerca della felicità il naufragio è una cosa interessante io penso che sia in America per esempio fare un naufragio finanziario è ritenuto una cosa interessante dal punto di vista finanziario sembra un paradosso mentre è invece così da noi se tu non puoi più fare niente devi intestare intestare tutta la suocera invece in America se tu hai fatto un naufragio vuol dire che per loro vuol dire che hai provato cioè hai provato cioè una cultura che viene dal dal pioniere da quello che va non ha paura del tentativo e dell'errore ha paura dell'ommissione invece la cultura che si sedimenta è una cultura omissoria e questo è grave non è non sono gli errori che fai sono le omissioni che compi che dicono male di te è un po' no? quando diventi esopo la volpe e l'uva no? quando cominci a dire che tutto sommato non era l'uva che cercavi anzi quasi quasi diventa ostemio no? e cominci a gli inglesi dicono skidding no? a scivolare verso il basso non non è vita non è vita io penso che ecco quando si parla di wellness no? io non penso ad un scusate non penso a un tapirulano mi spiace per technology ma sono bravi ragazzi però mi pare il maestro di wellness è un provocatore è uno che ti smeriglia il cervello uno non so è uno è uno che ti incita a disubbedire quello è wellness vi spiego c'è una cosa vedete qua che sono anche dei musicisti siamo anche su un palco di musicisti io mi sono ma pensate è una cosa che non è mai successa nel l'anno scorso il concerto più ricercato più che ha radunato migliaia 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 di giovani meno giovani anziani fatto da quattro signori che messi uno sopra l'altro fanno 300 e passa anni no? i rolling sì i quali hanno voluto non so se lo sapete lo so perché uno dei miei amici erano nella prima fila che non erano i super fan ma erano quattro cardiologi perché non si sa mai la coronaria soprattutto di uno dei quattro che è stata molto messa è stata stressata diciamo da cose naturali anche innaturali bene non è mai successo pensate un po' se io dovessi pensare quando avevo i miei vent'anni no? dice andiamo una figata pazzesca c'è un concerto di 3 74 anni cioè non è mai successo che che non è mai successo Grazie a tutti.